Partecipata conferenza stampa in regione per la presentazione della Conero Hero Battle, seconda e ultima tappa di Coppa del Mondo 3 Stelle di patilaggio in line freestyle, in programma Porto Recanati dalle 28 alle 31 luglio prossimi. La manifestazione è organizzata dalla Conero Roller, sotto legida della Federazione Italiana Sport Rotellistici e della World Skate, con il patrocinio di Regione Marche, Coni e Comune di Porto Recanati. È un evento importantissimo perché fa conoscere il nostro territorio fuori dai confini regionali e nazionali. Sarà un'occasione veramente per anche coinvolgere i giovani, perché sappiamo che il pattinaggio artistico è sicuramente un evento che attrae anche tanti giovani. La prima tappa si terrà a Parigi e in quella conclusiva di Porto Recanati i migliori campioni a livello internazionale si contenderanno i primi posti della classifica mondiale. Ma questa è una prima volta, una prima volta di un appuntamento che porta oltre al lato quello agonistico che tanto è una prova della Coppa del Mondo, ma sicuramente tante tante persone. Pertanto ancora una volta lo sport è che va oltre a quello che è il lato agonistico ma che va anche a favorire le attività economiche del territorio. Sono attesi oltre 200 atleti da 10 nazioni. Nella quattro giorni verrà allestito un villaggio suddiviso in 6 aree oltre a numerosi eventi collaterali, attività sportive, di intrattenimento, culturale e di sostenibilità ambientale. Abbiamo addirittura 3 ucraini, una ragazza che conosco personalmente che verrà da Odessa. Ci aspettiamo circa 25.000 persone in questi quattro giorni nel villaggio e abbiamo oltre a questi 200 pattinatori circa 1.000 accompagnatori che saranno qua in questi quattro giorni. Essere affiancati, portorecanati ad una città come Parigi non può che renderci orgogliosi di questo.